L'album si intitola Mascaras ed escrive le maschere della Sardegna e le peculiarità arcaiche e mistiche. Che posto migliore di Mamoiada per iniziare ad aprire il videoclip dell'album? Qui abbiamo il Convento delle Criclarisse, istitulato da poco dal Comune di Osteria, e una vetrina non solo per riportare alla luce tutto ciò che è la storia del clero e delle suore e delle clavisse di Sieri, ma anche per portare alla luce tutto quello che fa parte dell'archeologia osterese. Camuscia! Camuscia! Camuscia!